Ciao a tutti ragazzi Siamo i Justice and Killers Siamo i Free Day Io sono Andrà Porceddo Ciao ragazzi Sono Emanuele Pinelli Siamo i Green Mania Sì noi siamo gli Angry Nade Siamo Francesco dei Last Attack Siamo i Need of Green Siamo i Plugouthead Noi siamo i Pink Rabbids E siamo orgogliosi di annunciarvi la nostra partecipazione Al secondo raduno nazionale dei Fan Day Green Day Ci vediamo quindi il 5 settembre Al Fat Music Club di Roma Per passare una giornata all'insegna delle nostre canzoni preferite Io ci sono Stay with me! Ciao a tutti! Grazie.